Allora, abbandoniamo le Philips Hue e muoviamoci a fare altri due esempi di dispositivi di reti che in parte sono simili alle Philips Hue e in parte sono molto diverse dalle Philips Hue, ma che, possiamo dire, rappresentano gli stereotipi, le varie tipologie di come si interagisce con dei dispositivi IoT. Allora, generalmente i dispositivi IoT espongono dell'API, il REST, per recuperare informazioni o per comandare. In alcuni casi, soprattutto i sensori, espongono anche queste informazioni con MQTT, cosa che noi vedremo un po' più avanti. Adesso vediamo altri due esempi, come vi dicevo. Uno relativo a un'altra rete, sempre wireless, sempre che ha bisogno di un gateway o di un bridge, esattamente come le Philips Hue, che usa sempre un protocollo, come vi dicevo, wireless, non usa ZigBee, usa un altro protocollo e ha sempre dell'API REST. Noi però, vi farò vedere un esempio di interazione con questa rete che non ha bisogno, che non userà direttamente le chiamate HTTP, ma userà una libreria, giusto per avere anche un esempio un po' diverso. Ovviamente con la stessa libreria che abbiamo creato adesso, facendo le opportune chiamate HTTP, agli opportuni indirizzi, con gli opportuni JSON come corpo della richiesta, si ottiene lo stesso risultato che otterreste per le Philips Hue. Allora, questa rete è la rete Zetawave, che come ZigBee è una rete wireless, è una rete mesh. A differenza di ZigBee non ha dei profili, quindi non c'è un profilo Lightning, come nel caso di ZigBee, e a differenza di ZigBee è proprietaria, quindi quello che conosciamo gratuitamente sul protocollo è limitato, e quello che viene fatto via software è o pagare la licenza al proprietario del protocollo, o in molti hanno fatto illegalmente reverse engineering del protocollo, ma ci sono librerie, OpenZWave, un esempio, una libreria in C++, che ha fatto reverse engineering del protocollo, ed è una libreria, ed è una rete che supporta molteplici dispositivi, non solo le luci. Questa che in mano è una presa, che si può accendere e spegnere una volta che è attaccata alla corrente, e misura anche, come vi dicevo forse nella prima lezione, l'intensità di corrente e la potenza assorbita dall'oggetto eventualmente collegato a questa presa. Essendo un protocollo più generico, ha un modo di funzionamento più generico e anche meno codificato di ZigBee in certi aspetti. Per esempio, se voi volete aggiungere una nuova lampadina a una rete della Philips Hue, vi basta prendere questa nuova lampadina che avete appena comprato, collegarla a una lampada, a un portalampada, accendere il portalampada e dire al bridge cerca nuove luci. E lui, in qualche secondo, vi trova la nuova luce e ve l'associa alle vostre lampadine, e da quel momento in poi potete utilizzarla, semplicemente collegandola alla corrente. Con questi oggetti qui non è così. Allora, noi usiamo, ovviamente essendo il protocollo proprietario, noi usiamo un gateway, che in questo caso è una schedina, che si chiama Raspberry. Nel nostro caso. È una schedina tipo questa, e noi stiamo usando il modello vecchio, che era un po' più piccolo. È una schedina tipo questa che si installa sopra un Raspberry. Quindi in questo caso non arriva con un bridge, come quella da Philips, ma è semplicemente una schedina che si installa su un Raspberry di vostro interesse, di vostro possesso, e si installa il software associato a questa schedina e si usa. Quindi lì dentro, in questo rack, insieme al bridge della Philips, c'è anche un Raspberry, con a bordo questa schedina e il software necessario. Questo è uno dei supporti a Z-Wave. Ci sono svariati gateway, anche in prodotto tipo il bridge della Philips, e ci sono pennette USB, che quindi da una parte espongono la rete Z-Wave, e dall'altra attraverso la seriale dell'USB vi permettono di accedere ai dati. Questa è relativamente comoda, e relativamente economica, perché espone anche lei un server HTTP e dell'API REST. e in più ha un'interfaccia grafica per controllare eventuali dispositivi. Allora, questa URL è su DIR, quindi quando siete sulla rete d'Ateneo potete accedervi. Questa è l'interfaccia di amministrazione di quella schedina, del software associata a quella schedina, che quindi da una parte parlerà a Z-Wave e quegli eventuali dispositivi, dall'altra espone dell'API REST e rispone un'interfaccia grafica, che ha varie proprietà. Io apro la modalità esperto, perché vi voglio far vedere qualche cosa in più. Allora, al momento questo gateway non ha nessun dispositivo associato, questa pagina è bianca, dobbiamo aggiungerci questo per poterlo utilizzare. Allora vi dicevo, nella Philips Hue è sufficiente con il mondo Zigbee agganciare la lampada alla luce e dire al bridge cerca e tutto funziona. Con questo non è così. Quindi noi attichiamo la corrente. intanto, a quel punto dalle impostazioni della rete, dobbiamo dire, in maniera simile a come succede con le Philips Hue, incomincia, cerca i nuovi dispositivi. Si può iniziare l'inclusione di nuovi dispositivi o iniziare l'esclusione di dispositivi della rete. Per cui, se voi prendete un nuovo dispositivo, Z-Wave, non importa di che marca sia, e avete una cosa del genere in casa, dovete premere Start Inclusion, fare qualcosa sul dispositivo, una volta che il dispositivo è incluso, potete iniziare, auspicabilmente, a utilizzarlo. Se volete rimuoverlo da questa rete, perché si è rotto, perché non vi interessa più, perché lo regalate, per qualunque motivo, dovete premere Start Exclusion e lui esclude questi dispositivi. Exclusion esclude anche dispositivi che non sono mai stati associati a questa rete, ma magari sono stati associati a una rete Z-Wave di qualcun altro. Quindi è un'esclusione all'interno della rete, ma anche un'esclusione di dispositivi che sono associati da altre parti. Perché? Perché Z-Wave, per come funziona, ha un aggancio alla rete sul dispositivo e un aggancio alla rete sul gateway. Entrambi sanno della loro esistenza. Quindi noi per esempio possiamo premere Start Inclusion, lui dice il controllore è pronto e ti dice premi un bottone per includere il dispositivo. Tipicamente i dispositivi hanno un bottone, in questo caso nella presa, e uno lo preme qualche volta e ti dice il dispositivo incluso per ultimo è il Main's Device 2, che è questo dispositivo che abbiamo appena incluso. Da questo momento in poi possiamo controllare tale dispositivo. Vediamo che ha uno stato, che è off, che è una data di ultimo aggiornamento, che sono le 12.14. abbiamo un bottone per aggiornare il dispositivo, lo stato del dispositivo, e abbiamo poi un bottone per accenderlo, spegnerlo. Quindi per esempio noi possiamo, adesso non vedrete nessun effetto, ma noi possiamo accenderlo e questo dispositivo dovrebbe accendere la luce rossa che ha sopra e noi, e ovviamente lo stato è cambiato e diventato off, e noi possiamo spegnerlo. E lo stato diventa off e la luce rossa che è associata al dispositivo o l'oggetto che è associato al dispositivo gli viene tolta completamente la corrente, come se fosse staccata dalla presa. Questo ovviamente funziona per i dispositivi a corrente, funziona anche per i dispositivi che non sono a corrente, ma che vanno a batteria. Un sensore di presenza messo sul muro non avrà un cavo che lo correga la corrente dell'appartamento, ma avrà delle pile al suo interno, pile che si scaricano, che si cambiano, eccetera. I dispositivi Z-Wave quando vengono associati, come abbiamo fatto noi, riempiono questa, hanno questa procedura che si chiama intervista. Perché i dispositivi Z-Wave, a differenza delle Philips in cui c'è la luce e la luce ha tutta una serie di proprietà, usano un concetto diverso, usano un concetto basato sulle capability. Cioè un dispositivo è dato dalla somma delle sue capability. queste capability si chiamano command class nel mondo Z-Wave e sono per questa presa indicate qui su questa riga. Questa presa ha una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette command class. Alcune sono obbligatorie di default. Basic è la command class che dice questo è un dispositivo Z-Wave. Version è la command class che dice questo ha questa versione specifica, il firmware ha questa versione specifica. Dopodiché ci sono delle command class che sono specifiche per il produttore di dispositivo. Magari in base al produttore posso fare cose diverse. E poi ci sono le command class che identificano sul serio le capacità del dispositivo. In questo caso c'è una command class che si chiama Switch perché si può accendere e spegnere. C'è una command class che si chiama Switch Multi-Level perché si può regolare la potenza in uscita. e c'è una command class che si chiama Power Level perché ti dice quant'è la potenza che sta assorbendo il dispositivo. Quindi quando si prendono dei dispositivi Z-Wave non si dice si dice nel linguaggio comune ma non è propriamente corretto dire quello è una presa. Perché la presa può avere comportamenti molto diversi rispetto alle command class che ha al suo interno. ed è questo il motivo per cui come vi dicevo la prima volta noi abbiamo per esempio un sensore quadruplo che misura quattro cose diverse perché ha quattro command class diverse. E tu potresti avere un sensore quintuplo triplo quello che vuoi basta combinare come vuoi le command class. Potresti per assurdo avere una presa che ha anche un sensore perché l'importante oltre a supportare l'hardware è aggiungere le command class precise. Queste command class hanno delle proprietà fatemene prendere una un po' più furba per esempio questa command class ogni command class partecipa a questa intervista in fase di associazione e l'intervista è completa quando tutte le command class hanno risposto all'intervista ed è indicato lì e questa command class che è quella switch a un on-off che in questo momento è messa a none quindi non sa bene in che stato sia ma potrebbe essere messo esatto potrebbe essere messo a un valore specifico. In genere la rete z-wave o quantomeno quella offerta da questo dispositivo Raspberry è infinitamente meno robusta e costante nel tempo rispetto al mondo Zigbee nel senso che nel mondo Zigbee quelle lampadine sono state sei mesi senza essere collegate alla corrente e hanno funzionato subito questa roba qua ho dovuto riassociarle e resettare il controllore prima di poterlo utilizzare e se voi lo tenete a lungo io avevo un sensore nel mio ufficio in università un sensore quadruplo quindi temperatura umidità luce e movimento e a un certo punto mi misurava la gravità l'aria mi misurava tutta una serie di cose fantastiche che però ovviamente erano completamente sballate e l'unico modo per ripristinarle è stato resettare disassociare riassociare l'intero dispositivo quindi sono dispositivi anche infinitamente più economici delle Philips sono molti di più ma hanno un motivo ovviamente però è di nuovo è un modo di interazione con questi dispositivi simili a quello delle Philips è una rete wireless ha bisogno di un gateway locale non ha il concetto del push link perché ha l'username eccetera ma ha un'interfaccia grafica ha un nome utente una password che impostate ha un modulo associazione diverso sopporta tutti i dispositivi che volete basta che combinino in maniera diversa le command class e da un punto di vista software è abbastanza carino perché carino nel senso negativo perché avviene una command class specifica per il produttore il produttore può aggiungere o togliere cose più o meno standard a suo piacere funzionalità a suo piacere però è una rete che in ambito domestico si può utilizzare abbastanza bene questa è una panoramica se noi noi io ho realizzato un esempio come che come dire logicamente fa la stessa cosa che faceva la Philips Hue di nuovo invece di fare chiamate API REST classiche standard semplici come ho fatto per la Philips Hue in questo caso sfruttiamo una libreria che gestisce da sola le chiamate e allora questo esempio poi ve lo metto su GitHub ma giusto per per darvi un'idea questo progetto ha un pochino di dipendenze in realtà sono tutte dipendenze di riga 17 questo ZWaylib che è quella libreria che dà l'accesso a tutte le funzionalità ZWay siccome ZWay ha tantissime command class farlo a mano diventa fare delle chiamate che avete più a mano diventa abbastanza complesso e perché dentro una command class possono esserci vari oggetti diversi voi dovete andare a prendere l'oggetto giusto questa libreria facilita molto è possibile ma è molto complicato questa libreria facilita molto questa libreria però per funzionare ha bisogno di tutto oggetti praticamente Apache Commons JSON a sua volta per partificare il JSON perché le API hanno il JSON scambiano JSON e quindi per interpretarle che cosa fa questo programma? questo programma ha due classi una sono delle callback che la libreria obbliga a implementare e in questo momento sono implementate nella maniera più stupida possibile tipo c'è una system out print line quando ogni tanto e poi soprattutto c'è il programma vero e proprio c'è il programma vero e proprio che che cosa fa? in maniera simile a quello che abbiamo fatto per le lampadine accende tutti i dispositivi collegati aspetta 10 secondi e li spegne e in questo esempio recupera anche le informazioni di eventuali sensori adesso senza entrare eccessivamente nel dettaglio questo è l'indirizzo IP in un motente password di quel gateway quindi se voi eseguite questo programma quando siete qui e con qualcosa attaccato dovreste riuscire a utilizzarlo e ovviamente per prendere tutti i dispositivi invece di fare una chiamata lui ha già un metodo che si chiama get devices che da solo restituisce un oggetto che si chiama device list che al suo interno ha tutti i dispositivi della rete con tutte le loro proprietà che è un wrapper di quello che abbiamo fatto prima essenzialmente poi per ogni poi cerchiamo e notate che qui come vi dicevo noi cerchiamo in questo caso i sensori di temperatura ecco non cerchiamo in realtà l'oggetto sensore come prima cercavamo l'oggetto lampadina noi qui cerchiamo un sensore che al suo interno ha una command class che si chiama multilevel cioè un sensore che memorizza più cose a più livelli e in particolare noi vogliamo un multilevel che al suo interno abbia la temperatura quindi se non avessimo un multilevel con l'umidità e la potenza non ci andrebbe bene perché noi vogliamo un multilevel con la temperatura quindi bisogna ogni volta fare un passaggio in più per andare a cercare quello che ci interessa proprio perché c'è questo concetto di command class e non c'è questo concetto forte di dispositivi quindi si può prendere tutte queste informazioni e nel caso delle prese noi cerchiamo tutte le prese che hanno la command class switch binary quindi che si possano accendere e spegnere e a quel punto si può ovviamente accendere e spegnere in maniera molto semplice dispositivo.on per accenderlo dispositivo.off per accendere l'on del dispositivo associato a quella data command class poi aspettiamo 10 secondi circa come prima e le spegniamo prima le accendavamo le stesse prese questo giusto per darvi un esempio di un sistema che funziona logicamente in maniera molto simile alle Z-Wave anche architetturalmente in maniera molto simile ma che ha qualche complicazione in più legata per esempio a questo concetto di command class e questi due Philips U ZigBee e Z-Wave rappresentano una parte di un mondo IoT l'altra parte del mondo IoT può essere rappresentata da dispositivi come i Fitbit ma non solo alcuni sensori alcuni termostati usano la stessa filosofia allora come funziona un Fitbit? lo mettete al polso immagino e poi vabbè in questo caso questo è un sensore di battito cardiaco con dei passi eccetera ma lo comprate te lo regalo esatto devi installare l'app sul cellulare e lo colleghi al cellulare come? via bluetooth perfetto quindi tu hai i tuoi dati i tuoi passi il tuo battito cardiaco che viene rilevato da questo al tuo polso che vengono inviati via bluetooth al tuo telefono quindi tutti oggetti che è qui ma non li recuperi queste informazioni né dal tuo telefono né dal tuo braccialetto queste informazioni vengono mandate circa ogni 15 minuti un po' meno forzandolo al cloud di Fitbit quindi voi che volete recuperare il vostro battito cardiaco di ieri nonostante abbiate questo al polso e questo in tasca lo chiedete al cloud di Fitbit che sta in Stati Uniti ok questa è la modalità per cui il giorno in cui Fitbit chiude questo diventa un bel pezzo di plastica e questa la potete installare per cui questa è la modalità e l'altro mondo l'altra modalità di utilizzo dei dispositivi IoT quello che non accedi a un gateway locale non accede ai dati anche se li avresti via bluetooth sul tuo telefono o li hai sull'orologio che parla bluetooth quindi ha un modo di comunicare ma li devi chiedere al cloud che sta da qualche parte e quindi attraverso internet quindi in breve per usare i dati di questo in molti casi questo non ti serve ti servono i dati sul cloud allora i dati sul cloud di Fitbit i dati sul cloud di Fitbit alcuni dati possono essere inseriti a mano dall'app o direttamente dalla pagina web le attività il numero di passi il peso e quant'altro altri dati il sonno il battito cardiaco eccetera devono arrivare direttamente dal dispositivo attraverso il vostro telefono quindi alcuni dati non arriveranno se non avete questi ma in generale comunque dovete recuperare i vostri dati dal cloud come si recuperano i dati dal cloud? beh immaginerete che visto che è un cloud avrà delle API e immaginerete che per esempio queste API sono API HTTP che restituiscono oggetti JSON sono REST più o meno però comunque sono API HTTP quindi per esempio se voi volete le vostre attività o l'attività di un utente Fitbit dovete fare una GET all'indirizzo api.fitbit.com slash 1 che è la versione dell'API slash user l'id utente pippo piuttosto che meno se siete voi slash activities slash date e poi la data o il range di date in cui volete recuperare queste informazioni quindi per esempio 2019 trattino 03 trattino 21 punto JSON per avere queste informazioni in JSON questo vale per le attività ma questo vale per il sonno per il battito cardiaco per il tipo e il numero di dispositivi Fitbit che avete eccetera recentemente Fitbit giusto per conoscenza oltre a questi dispositivi più semplici ha anche fatto degli smartwatch gli smartwatch offrono qualche possibilità di interazione in più col dispositivo fisico in quanto può installare e creare delle applicazioni da far girare sul tuo smartwatch quindi lo smartwatch potrebbe inviarti i dati non attraverso bluetooth o attraverso bluetooth la tua applicazione passando dall'applicazione di Fitbit oppure lo smartwatch tramite il tuo telefono può accedere a internet e chiamare un indirizzo HTTP a tua scelta e quindi inviarti direttamente i dati dallo smartphone invece che passare dal cloud di Fitbit ma questo funziona solo per gli orologi veri e propri non per i braccialetti quindi questo è di nuovo esattamente in maniera molto simile a prima c'è un API HTTP c'è un JSON da prendere e passificare e quant'altro quello che cambia con Fitbit e con molti altri sistemi che funzionano in maniera simile quindi sono basati su cloud è che non essendo sulla rete locale hanno bisogno di un'autenticazione un'autorizzazione più forte rispetto a apriamo un bottone perché fisicamente sono qui e allora come funziona l'autenticazione con Fitbit l'autenticazione di Fitbit ma di molti altri anche usa Oout2 per poter essere autorizzati e ricevere quell'API come funziona Oout2 come ho usato io Oout2 nell'esempio che vi descrivo a breve e poi vi metto su GitHub usiamo innanzitutto una libreria che gestisce l'intero processo di Oout è un processo che richiede uno scambio di messaggi tra la persona il fornitore di autenticazione ed eventuali altri servizi implementare la mano è un mezzo suicidio esistono delle librerie in Java non tante esiste una libreria in Spring che lo fa esiste una libreria di Google che lo fa usiamo quella di Google poi a quel punto siamo autenticati siamo autorizzati a chiamare l'API ma le chiamate l'API singole dobbiamo farle noi a mano non c'è una libreria non c'è un SDK per Fitbit per Java e faremo un piccolo client che prende delle attività che io ho memorizzato in un profilo a mano di un giorno dato e stampa quanti passi ho fatto per esempio la prima attività allora come funziona l'autenticazione di Uout perché dopo l'autenticazione si tratta di fare chiamate HTTP secondo una certa API e prendere del JSON allora l'autenticazione con Fitbit si divide l'autenticazione Uout che sia Fitbit o no si divide in due grosse tipi principali una è l'autorization code grant e l'altro è l'implicit grant la prima è da utilizzarsi quando voi avete un server web o siete in grado di erogare un server web nel nostro caso useremo questa è quella più completa è quella più sicura anche come processo questi sono i passaggi che mi rendo conto non si vedono tanto lato utente quello che vede una persona quindi da una certa applicazione punto 1 abilita l'out abilitare la richiesta di dati per esempio a Fitbit Fitbit riceve la richiesta vi chiede a quali dati volete accedere all'attività al sonno al battito cardiaco a tutti ricevendo un certo codice che voi o lo sviluppatore vi ha fornito a quel punto Fitbit fa un redirect al vostro server web dove la procedura si conclude e vi dà un token che è quello da utilizzare nelle chiamate successive da quel momento in poi e questo è quello l'authorization code grant poi guardatevi meglio la figura ma c'è essenzialmente scritto quello che vi ho appena detto l'implicit grant è un pochino più semplice non ha bisogno di un server web ha bisogno di un browser e ha bisogno di delle azioni fatte in javascript all'interno di una pagina web quindi va bene per il client side puro senza un server e il meccanismo è più o meno lo stesso si abilita la richiesta si dice che cosa si vuole viene scambiato di nuovo un token che però questo token va gestito poi via javascript e non via server non viene chiamata un url sul vostro server perché voi non ce l'avete un server si può chiamare la url e quando io dico out voi avete presente cos'è out in pratica chi è che ha detto sì che adesso lo spiega tutti sì sì spiegalo a tutti allora no ok la versione breve lo dico per la gente a casa è un sistema di autenticazione e autorizzazione fa tutte e due che ti permette di utilizzare ovviamente uno stesso nome utente registrato su un servizio su tanti altri servizi diversi no quella roba lì in maniera pratica avete mai visto un sito che ha registrati con facebook con google o inserisci qua quello è out questa è la pagina di fitbit per cui quando io premo continua con facebook lui si logga come client o out nei confronti di facebook si scambiano un token di qualche tipo un pochino diverso dal meccanismo che stiamo vedendo e facebook non gli dà ovviamente la password o google non gli dà la vostra password ma vi dà un token quindi da quel momento in poi quando voi vi loggate a fitbit utilizzate le credenziali in questo caso di facebook o di google e lui poi li verifica rispetto a un token che sia facebook barra google e fitbit hanno e quando da una delle due parti fitbit o facebook barra google questo token viene revocato voi non potete più fare il login ma dovete rifare la procedura di autorizzazione in questo processo c'è sempre una parte se avrete mai sperimentato di autorizzazione in cui andate a dire sì voglio che fitbit legga il mio indirizzo mail da facebook barra google o quello che è e a volte c'è anche un per favore dammi più informazioni di quelle che mi fornisci con facebook per esempio fitbit potrebbe chiederti il peso durante la fase di registrazione informazione che google che non lo saprei come dire che magari nessuno degli altri due ha non sarei così certo ma che potrebbero non avere nel vostro profilo ecco né facebook o né google mentre la fitbit potrebbe interessare quindi essenzialmente quando vi permette quei bottoni lì state utilizzando oout2 in pratica cosa è richiesto per far funzionare oout2 per quanto ci riguarda beh abbiamo bisogno di questi token abbiamo bisogno dei token che vengono generati da fitbit e che siano validi utilizzabili nelle nostre applicazioni non importa chi sia poi l'utente che usa la nostra applicazione noi autentichiamo l'utente sulla nostra applicazione il token è associato all'applicazione che potrebbe essere usata da più persone e poi l'utente farà login col proprio nome utente e la propria password e in base al nome utente e la password potrà accedere o non accedere a certi dati quindi come si fa si crea un'applicazione dal sito dev.fitbit.com dove ci sono alcuni esempi questo è un esempio funzionante che poi revoco perché sto mettendo le varie secret key online in maniera pubblica c'è un application name che è obbligatorio molto fantasioso javasample c'è una description e richiede un sito web dell'applicazione in questo momento ho messo localhost perché non è un'applicazione che pubblicheremo richiede un'organizzazione e un sito è colpa dell'università richiede una privacy policy e un term of service che di nuovo noi non abbiamo ma che loro ti chiedono obbligatoriamente quindi io in questo momento ho messo localhost e poi richiedono tre informazioni che sono forse le più importanti di tutto dal fondo qual è il tipo di accesso che vuoi consentire ai dati con questa applicazione read-only o read-and-write noi se dobbiamo prendere dati da Fitbit ci basta il read-only qual è la URL che nel nell'authorization code grant flow utilizziamo vi ho detto che nell'authorization nel primo caso di autenticazione chiama un vostro web server quindi abbiamo bisogno di uno callback di un indirizzo quindi per esempio sarà localhost 2.6789 immaginiamo di avere un web server che pubblichi a quell'indirizzo e quella porta slash callback questa pagina riceverà delle informazioni il token di autenticazione di autorizzazione di autorizzazione anzi da Fitbit e dovrà poi gestirlo memorizzarlo e in quella pagina che viene mandato verrà fatta una post una put una qualche cosa e poi la parte sopra che è dipendente dal tipo di servizio che state utilizzando che vi chiede qual è il tipo di applicazione è un'applicazione server un'applicazione client un'applicazione personal allora con l'implicit grant bisognerebbe indicare client con l'altro bisognerebbe indicare server c'è una terza opzione in Fitbit che è personal che non è non ho mapping uno a uno con nessuna delle altre due personal vuol dire che vi permette di accedere a più informazioni rispetto a quelle che permetterebbe a un server o un client a patto che voi siate l'utente che vuole accedere a quell'informazione quindi per esempio i battiti cardiaci intraday quindi quelli che misurate ogni 15 minuti il baccialetto misurerebbe ogni 15 minuti sono disponibili tramite API solo ad applicazioni personal quindi in cui io accedo ai miei dati se non sono e io sono anche lo sviluppatore è un tutto un io se io do la stessa applicazione a lui che accederà con il suo non potente il suo password non potrà ad accedere a quei dati quindi si comporterà per esempio come client come application type ovviamente c'è un altro modo per accedere a questi dati nel caso in cui uno voglia fare un'applicazione da distribuire in cui uno possa permettere alla persona di accedere ai propri dati del proprio battito cardiaco ogni 15 minuti e che chiede a Fitbit l'autorizzazione esplicitamente però lì richiede appunto di scrivere a Fitbit aspettare una risposta mandare della documentazione eccetera 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 se no avete solo accesso ad alcuni dati per esempio sul battito cardiaco avete accesso al battito cardiaco a riposo che per Fitbit è definito come il primo battito cardiaco che viene memorizzato nella giornata quindi una informazione che avete durante il giorno e basta quindi quello personal è una fonte di informazione però a questa condizione che la persona che si autentica con o auto deve essere anche la stessa persona che ha creato questo che in questo caso va bene perché sono sempre io quindi queste tre sono le informazioni più importanti scusate ma devo metterlo in carica ok quindi una volta creata questa applicazione lei vi dà tutte queste informazioni che sono le informazioni segrete di cui vi dicevo prima dobbiamo cancellare le cancellerò il client ID un client secret vabbè la callback url l'avete definita voi l'authorization url ve la comunica è l'indirizzo verso il quale far partire il processo out e da dove si prende un token di accesso e di refresh nel caso in cui vi serva ricontrollare se il token è ancora valido dopo un determinato tempo come si fa questo in pratica allora come prima di nuovo ci sono un po' di dipendenze allora c'è come prima cosa la libreria out client di Google quella che vi dicevo prima e dopo di che siccome quella client è generica noi abbiamo bisogno di utilizzare un web server e non abbiamo in questo momento un web server c'è una estensione che embedda getti con un web server e quindi integra automaticamente un web server ma di per sé la libreria client può essere utilizzata con un server a vostra scelta noi in questo momento non ce l'abbiamo quindi abbiamo quello che è la seconda riga e poi lui ha bisogno se volete una libreria per partificare il JSON perché ovviamente le richieste out possono anche essere in JSON sono in JSON alcune risposte e quindi visto che abbiamo sempre usato JSON fino ad oggi gli aggiungiamo la versione di JSON che è personalizzata che è estesa per supportare out client di Google quindi quest'ultima riga è il JSON di prima ma personalizzato con alcune funzionalità in più per o out client quindi queste sono le tre dipendenze che cosa fa questo? provo a raccontarvelo allora partiamo dal main allora la prima cosa che fa il main è chiamare una funzione un metodo che si chiama authorize che come dice il nome fa partire e gestisce la procedura di autorizzazione su out cosa fa questa funzione authorize questa funzione authorize usa abbondantemente la libreria client di out e come prima cosa fa tre cose essenzialmente la prima di tutte è creare il flusso di autorizzazione e questo e lo fa in maniera totalmente diciamo automatica crea questo flusso di autorizzazione in cui indica alcune proprietà quindi per esempio dice qual è il metodo di autenticazione per wow22 e questo metodo bearer chiede qual è il trasporto http chiede chi è diciamo che gestisce il parsing del json quindi questa json factory che è indicata qui sopra che è una factory che viene costruita da json chiede qual è l'url del server per ricevere il token questa è in una classe a parte perché è la parte che ovviamente può cambiare da distributore a distributore diciamo di wow2 ed è esattamente quella url che ci ha fornito wow2 prima come server token in quella pagina queste informazioni in questa pagina qui sono esattamente le informazioni che ci ha fornito wow2 quindi client td e esattamente il client td che abbiamo visto su chrome il client secret pure il token server url l'authorization server url sono tutte le informazioni che ci ha fornito quella pagina di fitbit di prima sono solo separate con il loro get resetter quindi chiede la url per il token chiede qual è il metodo di autenticazione in questo caso un'autenticazione base come previsto dall'authorization grant che ha bisogno il client td e il client secret per autenticarsi poi vuole di nuovo il client td e la url dell'authorization server e questo genera la chiamata predispone il tutto poi vuole altre due informazioni uno riga 47 quali sono gli scope che voi volete a cui volete accedere cioè quali sono le informazioni che fitbit ha e questo varia da fitbit a google a facebook a cui volete accedere questo scope è una lista che può avere uno o più elementi io in questo caso ho messo un po' e sono gli oggetti che fitbit contiene alcuni degli oggetti quindi voglio poter accedere all'attività voglio poter accedere al battito cardiaco voglio poter accedere alla location voglio poter accedere allo sleep eccetera 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 questo è l'autorizzazione io voglio poter accedere a tutte queste cose se qui ce ne sono meno ovviamente se ci fosse solo activity potrei accedere con questa autorizzazione solo all'activity non potrei mai accedere al social se non rifacendo il processo di autenticazione al contrario questo di nuovo questo è quello che siete autorizzati ad accedere ovviamente non sono le richieste che farete quindi siete autorizzati ad accedere all'activity e poi dovrete chiedere le cose di activity siete autorizzati ad accedere allo sleep ma potrete non mai fare una chiamata http sullo sleep sono cose separate chiede lo scope e chiede qual è il data store che volete utilizzare in questo caso utilizza un data store su file gestito interamente dalla libreria dove memorizza i token e qualche altra informazione e questo crea il flusso dopo di che vi dicevo che nell'authorization grant code grant ha bisogno di codici che ci sono e ha bisogno di un server e quest'altra riga 50 crea questo server quindi questo local server receiver è sempre fornito è quel server getti fornito da google o out client che ha un host preso sempre da quell'altro file che in questo caso è local host è una porta che è esattamente la porta che ho inserito nella pagina web 6, 7, 8, 9 e a questo punto crea il server pronto per ricevere richieste in questo flusso e infine fa partire davvero il processo di autorizzazione passando l'oggetto flusso creato in altro e passando il server che riceverà questa richiesta con un metodo authorize questo metodo authorize vuole obbligatoriamente uno user id che come vedete in questo momento è embeddato nel codice si chiama user dovrebbe essere un identificativo ma è totalmente personalizzabile la vostra scelta voi potete farlo girare una volta con user e poi metterci un altro nome e farlo rigirare e ovviamente crea un altro token di accesso come se fossero utenti diversi questo per supportare il fatto che un unico software possa ovviamente avere più utenti o essere installato su più dispositivi questo fa partire tutta l'autorizzazione a un certo punto quindi torniamo nel main questo fa partire il processo dell'autorizzazione a un certo punto dobbiamo siamo autorizzati abbiamo il nostro token dobbiamo fare le chiamate vere e proprie allora per fare le chiamate vere e proprie qui c'è un metodo run che in questo caso cosa fa? crea un url esattamente come prima che è la url dell'api di Fitbit che chiede per l'utente corrente quello loggato tutte le attività in una certa data 2019-321 l'unica data in cui ci sono delle attività tra l'altro e fa la richiesta prende la risposta in JSON la parsifica e in questo caso la stampa come stringa sulla console se volevo farlo a mano ma non c'è tempo se voleste mettere questa richiesta in degli oggetti Java per esempio potreste utilizzare JSON in questo modo JSON è un oggetto JSON statico globale uno solo per programma che ho creato prima from JSON è un metodo che prende un oggetto JSON in formato stringa come in quel caso in quel caso sopra e fa il mapping su una classe esattamente come abbiamo fatto prima per le mappe con la differenza che questa risposta JSON è a sua volta un oggetto già JSON intero quindi aperta graffa e varie coppie activity list invece è una classe che non è una mappa è una classe vera e propria che contiene dentro due liste una lista scusate activities e un getter di quella stessa lista questo activities è uno degli oggetti una chiave dentro il JSON che riceve anche se è tutto inserito in un unico oggetto JSON quel metodo JSON è capace a estrarre i contenuti e quindi ignorare l'oggetto più grosso che lo contiene a differenza di quello che abbiamo visto prima per le Philips Hue utilizzando JSON ma attraverso rest template JSON puro diciamo riesce ad avere questa interfaccia di più alto livello in cui semplifica alcune cose quindi questo metodo cosa fa prende questo JSON prende in questo caso solo la chiave activities e riempie la chiave activities dentro rispetto alla classe activities list che a sua volta ha altre variabili al suo interno e poi stampa i passi che sarà un oggetto singolo della prima per provarlo perché proviamolo io lo eseguo lui parte come prima cosa mi apre un browser per la parte di autenticazione quindi mi chiede nome utente password di Fitbit io l'inserisco se me li ricordo se il login va successo questo non mostra più niente dice codice di verifica ricevuto puoi chiudere questa finestra ed è quello che facciamo e se torniamo di qui vediamo che è arrivato un JSON questa riga che al suo interno ha un oggetto che si chiama activities che ha un activity di un parent di eccetera dopo c'è un altro oggetto che si chiama summary che è un summary di tutto e poi estrae questa informazione dal JSON e stampa i passi della prima attività e i passi della prima attività sono 6175 e andando avanti in questo JSON la prima attività è la camminata c'è una descrizione camminare meno che 2 miglia all'ora c'è una distanza c'è una durata e a un certo punto ci sono anche il numero di passi 6175 che in questo caso se iniziate a mano ha calcolato in automatico in base al tipo di attività camminata in base al tempo in base ai chilometri che gli ho indicato totalmente fittizi poi vedete dopo c'è un'altra attività e così via quindi quella riga lì la riga 71 no la riga 69 prende questa stringa e la converte in prima activity list che è quell'oggetto che vi ho fatto vedere e poi che è dentro questo package model e poi ogni activity list è in realtà una lista di activities dove ha all'interno calories description distance step che sono alcuni di quei valori che abbiamo visto nel JSON se voi volete prendere più informazioni o informazioni diverse è sufficiente fare più chiamate all'indirizzo a catetiche corrette e parsificare il JSON di conseguenza prendere le informazioni come in questo caso get step e fare le operazioni che volete ok questo finisce su github insieme al progetto di prima e vi metto anche le credenziali per accedere al mio profilo finto Fitbit su dir in modo che se volete provarlo potete e la prossima volta che sarà il 2 aprile ci sarà il primo esercizio diciamo da consegnare per l'esame quindi due ore interamente dedicata a quello che potrete far qua e che come vi avevo preannunciato sarà sull'interagire con i dispositivi IoT e in particolare ve lo posso anche preannunciare un po' di più riguarderà sicuramente le Philips Hue tramite l'emulatore direi perché tre lampadine per tutti è un po' problematico e riguarderà Fitbit non riguarderà Z-Wave questo chiude e buon appetito se avete domande sono ancora qui dieci minuti qui e buon appetito e buon appetito e buon appetito e buon appetito viaggiatto